E' stato sequestrato il centro massaggi cinese Luna, situato nel comune di Morro d'Oro, dove, secondo le indagini effettuate dai carabinieri di Notaresco, si sarebbero svolte prestazioni sessuali dietro compenso. Dal giorno dell'apertura, nel mese di dicembre 2014, i militari avevano tenuto d'occhio l'attività, prendendo nota delle strane frequentazioni di uomini di ogni età. Già nel mese di febbraio 2015, il locale, a seguito di un accertamento congiunto da parte dei carabinieri di Notaresco, del NAS di Pescara e del Nucleo Ispettorato e Lavoro di Teramo, venne chiuso per mancanza delle necessarie autorizzazioni. Alla riapertura, avvenuta dopo pochi mesi, a conclusione indagini, i militari hanno denunciato la titolare, una cittadina cinese di 35 anni, già nota per fatti di giustizia, la Procura e la Repubblica presso il Tribunale di Teramo, per continuato favoreggiamento della prostituzione. Durante l'attività investigativa era stato accertato che all'interno del centro cinese le collaboratrici effettuavano prestazioni sessuali dietro pagamento di un congro o supplemento, circostanze via via confermate dai frequentatori abituali e locale. Così i carabinieri in Notaresco hanno posto i sigilli sul centro massaggio in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Teramo, che ha concordato pienamente sull'esito e le risultanze investigative acquisite dai militari. Tenuto conto della massiccia presenza di centri massaggi cinesi nella giurisdizione, i carabinieri e la compagnia coordinati al capitano Domenico Calore continueranno l'attività di monitoraggio al fine di accertare situazioni analoghe in altri centri.